Grazie a tutti Attenzione, sta bene Devo chiamare assolutamente Federica Pronto? Signorina Come sta mio zio? Non si sente bene? Ma come? L'altro giorno stava bene Va bene Dica che arrivo subito Va bene? Ok Va bene Ok Lo tranquillizzi Ma dica che arrivo subito Ok Benissimo Salve Oh mamma L'azio non sta bene Gli avevo detto che mi devono bere Alcolici Prima di una serata Grazie a tutti Grazie a tutti